Le reazioni del PDL alla condanna definitiva di Berlusconi nel processo Mediaset pongono sul governo di larga intese una pesante ipoteca. Grazie per Berlusconi e riforma della giustizia oppure si va dal voto la linea emersa nelle vertice di ieri con Berlusconi. Per domani a Roma ha convocata una manifestazione a sostegno dell'ex premier. E ieri la Procura di Milano ha firmato l'ordine di esecuzione con sospensione della pena. Disposto anche il ritiro del passaporto per Berlusconi, inoltrato al Senato l'estratto esecutivo della sentenza. La giunta per le elezioni di Palazzo Madama potrebbe affrontare la questione della decadenza già mercoledì prossimo. Fine settimana di esodo estivo sulle strade. Traffico intenso si registra in particolare in Emilia-Romagna verso il mare e sulla 1 in direzione sud. Federalberghi registra per questa stagione una lieve inversione di tendenza rispetto alla crisi degli ultimi anni. Più 0,9% di turisti italiani e più 3% di stranieri dal 2012. Otto civili, tra cui sei bambini, sono morti e 22 sono rimasti feriti per un'autobomba fatta esplodere da un kamikaze a Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan. Il bilancio è della polizia locale. L'esplosione è avvenuta vicino ad una moschea e alla consolato indiano. Illesi i diplomatici. Allarme di Washington per possibili attentati nei prossimi giorni, affirma Al-Qaeda. La Casa Bianca ha disposto la chiusura delle ambasciate in 17 paesi tra Asia e Nordafrica. Nello Yemen saranno chiuse anche le sedi diplomatiche di Gran Bretagna e Germania. Scattata all'alba a Roma, la pedonalizzazione di parte di via dei fori imperiali. Il progetto, voluto dal neosindaco marino, preclude al traffico privato l'accesso all'arteria che taglia una delle aree archeologiche più famose del mondo. Per celebrare l'evento da stasera, la notte bianca dei fori.